Questo viaggio è una cosa per conoscere meglio la Madonna che ha fatto Gesù e quindi ci ha liberato in un certo senso. Questo viaggio è anche un'occasione per conoscere vari paesi della Sardegna e visitare magari con dei pellegrinaggi tutte le zone di quel paese. Io mi aspetto da questo viaggio che tutte le persone malate che chiedono la grazia vengano aiutate anche dagli aiutanti della Madonna che imparino a conoscere magari tutta la sua storia. Mi dici come ti chiami e da dove vieni? Francesco Fioravanti, vengo da Cagliari. Ok, grazie, ciao.